Il Ministero ha confermato e rilanciato il suo impegno per la riduzione in tempi certi dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Questa è la frase chiave della nota emessa dal Ministero dei Trasporti a margine dell'incontro tenutosi questa mattina con i vertici di Ryanair di Regione Abruzzo e Sardegna a cui ha partecipato anche il Ministro Graziano Del Rio. Dunque si apre uno spiraglio positivo nella difficile trattativa per far restare a pescare il vettore low cost irlandese che due mesi fa aveva annunciato l'abbandono delle basi di Pescara e Dalguero proprio in conseguenza dell'aumento delle tasse aeroportuali. Più in generale, continua il MIT, verrà compiuta dal Ministero una disamina puntuale per ridurre gli oneri impropri sul funzionamento infrastrutturale al servizio del turismo. Inoltre, nell'ambito delle politiche di incentivazione per gli aeroporti e le compagnie aeree il Ministero apre concretamente alla possibilità di rivedere le linee guida a suo tempo emanate per fronteggiare le problematiche inerenti alla sostenibilità di esercizio degli aeroporti minori e insulari. Soddisfatto il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha visto un atteggiamento di realtà sia da parte degli operatori economici che da parte del Ministero dei Trasporti. Se Ryanair dovesse lasciare i due scali, dice D'Alfonso, verrebbero meno 3 milioni di voli l'anno, una questione non di poco conto anche per le eventuali ricadute economiche. Restano critiche le opposizioni in regione Abruzzo, con Forza Italia che annuncia la richiesta di ulteriori dettagli in merito alla giornata romana di D'Alfonso in occasione della seduta urgente e straordinaria del Consiglio regionale dedicata all'emergenza dei trasporti e richiesta proprio dai consiglieri azzurri.